Una delegazione costituita da amministratori provenienti da diversi paesi europei ha scelto Pordenone per una visita di studio in materia di mobilità urbana sostenibile. Gli ospiti sono stati accompagnati quest'oggi dai tecnici comunali per visitare alcuni punti nevralgici della viabilità cittadina, in particolare sulle nuove rotatorie dove sono stati realizzati interventi di moderazione del traffico senza compromettere la scorrevolezza. Presente anche l'assessore comunale alla mobilità urbana Bruno Zille. Sono ospiti che vengono da alcuni paesi esteri, appartengono a vari enti comuni, alcuni di loro sono professionisti nel campo della mobilità, proprio per testare il piano della mobilità sostenibile che abbiamo fatto qua a Pordenone. Tra l'altro il nostro piano è uno dei primi piani a livello nazionale per quanto riguarda il tema della sostenibilità. All'interno di questo progetto BOOMS, che è gestito dall'area Science Park di Trieste, c'è stato un apprezzamento per il lavoro svolto e un particolare interesse per gli interventi che stiamo facendo. E questo ci rende in un certo senso orgogliosi, perché la scelta di aver portato avanti e di aver approvato il piano della mobilità sostenibile è la direzione giusta che l'Europa ci chiede e credo che questo possa essere anche un modello, gli altri così ce lo riconoscono, per quanto riguarda altre iniziative che possono essere stese, non solo nelle città italiane ma anche in altri paesi esteri. La visita si è conclusa con il sopralluogo al nuovo parcheggio di interscambio della Fiera e la previsione del tracciato del nuovo collegamento ciclopedonale previsto per consentire il collegamento con il centro cittadino.